...delicatissima dal punto di vista psicologico, hanno tirato fuori veramente, non lo so se l'anima, il cuore, quindi la prima cosa che mi sento di dire veramente a riguardo a oggi è che la squadra ha finalmente trovato veramente l'anima che sono tre mesi che andiamo cercando. Sinceramente la società mi è stata vicinissima, i giocatori non lo voglio dire perché parla il campo, per quanto riguarda tutto quello che è stato detto fuori dentro di me lascia il tempo che trova. Io ho sempre lavorato da tre mesi a questa parte con grandissima dedizione, ho cercato di metterci tutta l'umiltà che ci avevo, forse ancora non ci sono riuscito, ma soprattutto con una voglia di dare a 25 ragazzi, a 30 persone con tutti gli staff, tutto l'entusiasmo che ho io dentro nel fare calcio. Sì, abbiamo fatto una partenza non adeguata alla situazione, siamo andati sotto due gol, poi dopo piano piano abbiamo cercato di ricucire lo strappo e rimetterci in partita. Ci siamo riusciti al termine del primo tempo, riportandoci sotto 2 a 1, poi dopo nel momento in cui abbiamo trovato il pareggio, diciamo che se forse riuscivamo a passare qualche minuto per riassertarsi un attimo, forse avremmo portato a termine un risultato che per noi comunque era importante. C'è da premiare comunque la determinazione dei ragazzi nel cercare di rimettersi in partita e poi raggiungere la parità.